Il giudice civile del Tribunale di Roma ha scritto che il Comune, chiamato in giudizio dall'impresa Saiseb, che pretendeva dei risarcimento dei danni, delle somme per interesse per oltre 6 milioni di euro, che il Comune era tenuto a pagare quelle somme all'impresa Saiseb perché non aveva il Comune chiamato in giudizio e in garanzia il Ministero dei Lavori Pubblici. Ha scritto al Tribunale di Roma che quelle somme avrebbe dovuto pagarle il Ministero se solo la difesa del Comune avesse citato il Ministero in giudizio. Quindi vi è un'esigenza di equità, di giustizia sostanziale. Erano somme che il Comune doveva risparmiare, che il Comune ha dovuto pagare con enormi sacrifici e se oggi noi abbiamo le strade che sembrano essere le strade di una nazione in guerra dopo i bombardamenti è perché il Comune non ha i soldi per mettere l'asfalto. Se abbiamo vie importanti, molto popolose, prive di imbianti di illuminazione e talvolta gli imbianti di illuminazione ci sono ma non abbiamo i soldi per pagare le bollette è perché il Comune ha tirato fuori quei 6 milioni di euro. Allora io dico al Ministro Alfano, il mio partito è a sua disposizione. L'Onorevole Benedetto Adragna, gli altri parlamentari miei amici presenteranno un ementamento al decreto di fine anno affinché al Comune di Agrigento vengano restituiti questi 6 milioni di euro. Però noi siamo minoranza, il Ministro Alfano è agrigentino, si parla di lui come prossimo successore di Berlusconi e ha un dovere morale nei confronti della sua città, rendere giustizia, fare sì che alla città di Agrigento vengano restituite queste somme, questi 6 milioni di euro.